La signora Paula ha condiviso uno dei diari della signora Frances con me e lo sto ancora leggendo. Ma un consiglio mi ha colpita. Avere coraggio. Dire quello che vuoi quando ne hai ancora la possibilità. Avere coraggio. Mi piace. Sì, tesoro mio. Tu stai per compiere 16 anni. Questo è un momento bellissimo per te per pensare a quello che vuoi per l'anno che verrà. Devi avere coraggio. E dimmi che cosa davvero, davvero vuoi nel profondo.